Sono di nuovo scattati i sigilli per il bar My Way di Corso Italia. A disporre la chiusura per 15 giorni la questura di Arezzo, coordinata da Maria Luisa Di Lorenzo, che ha ritirato temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande all'esercizio. Un provvedimento che si è reso necessario a seguito del grave episodio che si è consumato nella notte dello scorso 8 ottobre appena fuori dal locale. In quella circostanza un uomo e una donna, entrambi poco più che ventenni, erano stati soccorsi dai sanitari dopo aver riportato ferite, lui al torace e lei alla mano, causate da un coltello brandito a sua volta da un altro giovane. Gli agenti delle volanti avevano posto sottofermo l'aggressore e raccolto testimonianze. I tre avventori abituali del bar, qualche ora prima dell'aggressione, si erano proprio ritrovati lì per festeggiare il compleanno del giovane che poi ha sferrato i colpi. In momenti di tensione avevano coinvolto anche una barista. Il locale, soltanto lo scorso 3 marzo, era già stato destinatario di un ordine di sospensione della licenza. Successivamente il bar aveva riaperto i battenti, poi l'episodio dello scorso weekend che ha fatto scattare di nuovo l'interdizione nell'esigenza, spiega la questura di Arezzo, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.